ci siamo perfetto oggi niente green screen ho la stanza abbastanza in ordine poi ho il riquadrino piccolo chi se ne frega non c'ho voglia di settare il green screen allora seconda volta su warzone seconda volta su warzone faccio un'oretta e mezza adesso prima di cena due orette di warzonata così giusto per sparacchiare ieri sculato arrivando secondo poi mi sono giocato malissimo poi dovevo aspettare che quello che avevo come bersaglio che avevo in in mira finisse di combattere contro quello che non vedevo invece ho deciso di sparargli subito anche se poi ho scoperto che la il terzo l'aveva il terzo rimasto l'aveva segato poco prima che ingaggiassi o lui però ho sparato a caso e quindi non l'ho preso neanche mezzo vediamo così un po faccio la lobby ok 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 non ho capito se vale veramente questa questa exp questi 100 punti a exp ogni tanto qui in lobby forse sì molto centrale questa volta ma io scenderai boniard così per non saperne leggerne scrivere pura storage down un sacco di gente va a storage down qualcuno qua di sotto no ah uno sì questo mi spara ok c'è uno qua nei pressi però cosa di più serio porca miseria eh l'ho visto tardi sai perché ha aspettato così tanto pensavo fosse afk o che invece ci ha messo un sacco per prendere la mia io sono stato lentissimo comunque ok 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 Preparati, sei il prossimo Se vinci questo scontro, torni in prima linea Se perdi, è finita Vallo fuori Ah, va, chi se ne frega Quella nell'angolo, cioè sono andato dalla parte Ho raccolto la mitagliatrice Sono andato nell'angolino dove c'è il fucile Ho cominciato poi a andare verso di lui Quando mi sono accorto che era lì E lui ancora non ha cominciato a sparare Io ho visto lì fermo, lì così Pensavo con della roba a terra Dicevo, boh, starà Ragionando sull'equip da prendere Anche lui Per questo che sono rimasto un po' Disorientato Anche oggi Un botto di caricamenti Un botto di gulag 3 secondi in partita Bene, ottimo Preparatemi per bene Un botto di caricamenti Sali Boh, chi c'è qua? Boh Ma, eh, cosa spara? Ghiande questo fucile? O l'ho mancato tutte le volte? Boh, godarsi Boh, proviamo a uscire subito Andiamo a promenade west Un botto di gulag Un botto di gulag Prima che trova un fucile di precisione Ah, non te lo apre automaticamente? Ma... Boh A me sembra che lo apre automaticamente Non lo apre? Vabbè Ok Ok Questo non lo sapevo io quindi Ci vuole niente da di qui Boh Vabbè Altro caricamento Chiaramente un po' lunghini eh Ormai Cioè 2021 Vabbè chiaramente ancora così lunghi Giochi Sarà perché deve trovare la lobby Per raccogliere 150 player Dai su Sprigati 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 Vabbè ma se scendiamo late anche oggi anche adesso adesso un sacco di gente uscirà andrà verso military hills anche promenade dentro qua hanno degli edifici andiamo qua ahia no ok ne sono fatti niente sgarmi simpatico questo sarà una raffica vera quest'arma qua boh tengo a roba ancora non ho capito che cacchio servono le le rarità delle armi ora vediamo un po' bisogna vedere dove si stringe l'amico frizz ok è automatico la pistola con questa è un vero automatico 45 secondi boh questo ancora non so che cacchio sia forse con dei nemici extra con del loot migliore tipo scorta alla escape front arco boh tipo una zona col boss vediamo un po' come si stringe ah deve prima arrivare qua quindi ah colpi silenziati sono questi tre finestre sono quelle ah dici aspetta no cancella sta roba ma se si stringe con questa forma qua a parte che qui questa linea qua è già il confine cioè non si può andare qui quindi questo è già gas per dire oh un treno merci che si sposta figo ok una cinquantina di player sono già andati ah 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 quindi rimarrà si chiude in questa porzione qua se si restringe verso aeroporto c'è un po da correre ma anche verso ospedale ci sarà un po da correre però verso ospedale almeno si passa attraverso gli edifici sta roba che sembra simpatica il motorcade il motorcade milano 821 calibro della fn 5,7 per 28 mm ma che io sono curioso di vedere dove si chiude qua c'è uno che rimane qui sta aspettando di vedere dove si chiude grazie a tutti Le mani fredde oggi Ok Che muro qui Non so Munif E' migliore di questa? Si Perfetto Dai togli questo robo Forse Devo spingere un po' più nel centro Dopo sarò costretto Forse mi conviene raggiungere Train station Che direzione è train station? No è di qua Dove erano quelli? Corre dritto sulla sinistra Pochissima copertura Allora No 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 non ho capito se era l'aereo che mi ha sparato o un player che era dal tetto un riparino mobile ma è che ci si stende che è successo saldi contro il sinistro ok ok posso curvare fino di qua ok allora non va verso l'airport rimane più qua ok va bene piastro al massimo nonosti suoni spaventevoli ok qui 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 Perfetto terreno. Perfetto terreno. Questo sapeva nasava dalle granate le lancia 2 e 3 entra piano piano ok questo è automatico posso prendere altre altre piastre questo che cos'è? Uh maschera di gas sacca per corazza ottenuta quindi quindi 8 perfetto per ora funziona andiamo a vedere dove si chiude però ecco ecco la clima però è simpatica ecco 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 vabbè intanto due cretini li ho stesi oh c'è del loot andiamo a vedere nella faccia però non sono portato per i giochi competitivi mi piace i giochi dove si farma dove si farma si potenzia il pg il pve il pvm non sono mai stato da pvp poi c'è proprio da giocare da solo si rompe si rompe abbastanza si rompe si rompe si rompe ho preso il muro ho preso il muro di nuovo ondeggia sì anche lui non è stato molto proficent non posso sparare mentre cado no cooper visuale libera ah fanculo andiamo a vedere che cazzo vuol dire superstore graffiato chissà se anche l'altra gente ci va tutto barrato col sugo no l'ho mancato fuci rosso no l'ho mancato posso lutare la sacca? no posiziona capito abbastanza vicino c'entro io aspettare qua zombie ah sì ma questo vuol dire ma che merda oh oh ahia mi fa malissimo sto cosi vabbè l'ho mancato no No, ho finito i sassi Vabbè No, ma già sto fatto Warzone Warzone, che palla Un po' una rottura Cioè, non c'è Quello è il fine Quello è lo scopo Almeno in un MMORPG Di farmi E diventi sempre più forte Ma qui, cosa fai? Sparacchi in giro e Boh Sarà anche divertente da Da fare in gruppo, ma Ma i giochi del genere mi rompono un po' il cazzo Sarà perché sarò ormai troppo adulto Secondo me Allora Voglio portare avanti Pokémon Però Dato che non ho il green screen Vediamo di ridimensionare un pochino Ecco Voila Dovrei aprire il Fammi cambiare anche Categoria HeartGold Perfetto Perfetto Fatemi aprire la Il gioco Il gioco E' questo? Si Perfetto Perfetto Allora Ok Eravamo arrivati al faro E stavamo proseguendo su per il faro Faro Stavo anche cercando di allenare mainstream Solo che Fa un po' Chegare come Statistiche Le difese Le difese Fa schifo in difesa Fa schifissimo in difesa Almeno Nemesi Ah Che strumento ha Nemesi in questo momento? Ah Gli avanzi Perfetto Allora faccio un po' di switch su di lui Ah è vero Non sono più col wasd Uh Grovile Sheptile Già che elemento era? Che tipi era? Non mi ricordo Erba veleno era Erba veleno Ah Ecco perché Non switchavo su di lui Perché Perché non ha più PP nelle mosse C'è un raggio? Ahia Ah no C'è un martel Ah beh Poi ho giorno paga Va bene No Oppure non era Erba veleno Non mi ricordo Molto bene Ah Aveva solo lei Va bene Come Come pokémon Ah qui è chiuso Foschi sfera La fo schifo La sfera dello schifo Vediamo un po' Speciale 70-100 Poi ridurre attacco speciale Chi lo può imparare Chi lo può imparare Nessuno Piccione Ce l'ha già? Me l'ero dimenticato Di questa cosa Madonna Anche lui è lento Come la merda Guarda qua Lentissimo Lentissimo Vabbè Nemesi può fare Un altro po' Di giorni paga Com'è che arrivo Di là allora Preso la via Sbagliata Questa è l'anatrice? No Com'è che arrivo Di sopra? Ah no Da di qui esco Ah me l'ora aspetta Se sono uscito Vado al Centro pokémon Così curo tutti E siamo felici e contenti Schippiamo La cura Voilà Ah fa vedere se ho catturato qualcuno Di cui non ricordo L'utente che ho giocato Qualche giorno fa Spiro Picchio Ecco come l'ho chiamato Com'era questo Spiro Ah l'avevo visto Sì è quello che avevo schifo E lotta a scudo Ma Se muore qualcuno Lì andrò ad allenare Però per ora vediamo questo Questo drattini Se migliora Diventando dragonair Mi sa che devo fare scorta Anche di roba da curare Però Quanto ne ho in borsa Ah infatti ne ho zero Facciamone Le soldi ce le abbiamo Compriamone 20 Ah qui non vende le Le ultra ball Ah sta Ho finito anche l'antiparalisi Prendiamone un pochino Adesso vabbè che ho le polvo cura però Queste Fan sempre bene Allora vediamo di fare Sto faro Del manga Io penso si possa andare su Allora con la L'ascensore Che quelle scale lì Non portavano Tutti in su Forse andare su E poi scendere No non mi ricordo Non mi ricordo Ah vero qui c'è la capopalestra Jasmine Focca al nastro Attenzione Il foca al nastro Andiamo a mainstream Giusto perché Se mi sbaglio E lo faccio attaccare Me lo segano Che ha poca Che ha poca difesa Ok lei è blindata dentro Allora Si deve arrivare per forza Da di sotto Non ho visto io una scala Sicuramente non ho visto io una scala Allora Tra l'altro Finito questa Vorrei provare Pokémon Xenoverse Che mi sembra sia carino Tra l'altro è un progetto italiano Che bisogna andare di qua C'è la porta qui Ecco Sono proprio caduto Un po' pericoloso Uh oggetto Vediamo che cos'è a caso Pietra ovale Pietra ovale Cos'è che serve Già la pietra ovale Fa evolvere qualcosa Ah esatto Fa evolvere Fa evolvere Censi in Blissy Ah no Lui Gli facevo tenere Il condiviso di esperienza Ecco perché No Allora Lasciano stare Fuoca il nastro Ah eccoci qua Dustox Era in questa rank Avevamo incontrato Dustox In uno dei primi Percorsi Bello ticciotto No Non fuga Pokémon Aia Tossina Problema Ero Spettro Aia Spettro è super efficace Però almeno le difese sono alte Con avanzi Mitiga un po' Però non posso stare Avvelenato per Troppo tempo Facciamo abbagliante Allora Un altro attacco di abbagliante Dovrei farlo fuori Così posso dare un antidoto A 36 Mantaic No Switcho Su Fiorello L'antito Gli do Fuori Della battaglia Aromaterapia Contento te Sei contento te E siamo contenti tutti Guarda Geloscheggia Non so se è efficace Però almeno è una mossa priority No è normale Cioè normale come efficacia Non normale come tipo Va bene va bene va bene Allora Bisogna curare Nemesi Diamo gli anche Una superpozione Altro oggetto casuale Roccio aroma Quello che fa diminuire La precisione Dell'avversario E dai Gli ho sbagliato sempre Icona Roccio aroma Ah no è quello che potenzia Le mosse di tipo roccia Se potenzia le mosse di tipo roccia Io potrei darlo a dark lord Ah però ha rapidi artigli No preferisco rapidi artigli Allora Almeno così se gli fa Un 10% di attacchi In più Sono più contento Dato che c'ha Una velocità Infima Vediamo questo avvicoltore Che cos'ha Magneton Ho incontrato Magneton Ma non mi ricordo Che tp è Mi ricordo assolutamente Che tp è Cosa c'ha La fascina L'attacco L'attacco Aia L'attacco Ho solo Attacchi fisici Cioè attacchi normali No attacchi normali Attacchi fisici Con nemesi Però gli ha crittato Nella faccia Sì Paralizzante Fastidioso Certo Se non mi abbassavo L'attacco Non Non sopravviveva Poco ma sicuro Secondo brutto colpo Un bomber Un bomber Un bomber veramente Dai che deve arrivare Al 40 E così diventa Cabuto Altaira Altaria Anzi Leviamo subito La paralisi Sarà efficace Dragon Bolide Dragon Bolide Drago Bolide Sarà efficace Marte il pugno Eh ma nemesi È un tanker Quindi No Non gli ha fatto Nulla Non gli ha fatto Un'emerita Minchia di niente No ma bravo bravo Usa Dragon Bolide Dragon 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 Bolide Bagliante però è speciale Non è proprio un gran che Brut colpo Al fine mi sa che quello migliore giorno paga Beh al fine che giorno paga gli ha fatto Nulla Adesso ormai anche Dragon Bolide Non mi fa nulla Ma Tre Tre danni Tre Finiamoli il giorno paga Ci facciamo qualche monetina in più Uno Mi ha fatto uno No ma congelato Che strozzo Porca miseria Allora Abbiamo di antigelo Decidiamo un pochino Che tanto qua Abbiamo visto che ci sta mettendo un sacco Tangela Marte il pugno Ah e spettro anche lui Allora psico Di abbagliante Nulla Ah crebbi Ogli ho fatto giorno paga Mannaggia Mannaggia Sono stupido Sono stupido No ma Facciamo L'ultimo abbagliante Sostituto Tocca di cambiare Mettiamo su Mettiamo su Mettiamo su Mettiamo su Dark Lord E' l'ultimo L'ultimo Assieme a Aldratini Che è rimasto Il livello Ancora 27 Dai con sciotti Con giro forza Bravo Bene 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 sbrigati sbrigati nidorino ho incontrato nido king ma non ricordo assolutamente di che tipo è neanche lui sembrava che fosse troppo fortunato lui per rimanere in vita dopo un gemma forza di dark lord vediamo prima l'item flauto giallo che cacchio fa flauto giallo già sveglia occorre dalla paralisi ma scusa dov'è il flauto giallo ecco speciale al libera dalla confusione buonissimo quindi quando mi confondono invece di morire come un idiota un idiota balbuffiente e citare una famosa youtube oltre giallo per curarlo senza dare usare una polvo cura o una cura totale pupitar tornado non dovrebbe fare tanto ecco rapidi artiglia la fatta da cara per primo e di ciò sono contento ha fatto un nuovo attaccare per primo due volte di fila bene 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 100 di difesa e 90 di attacco speciale 85 di attacco 24 velocità 60 di speciale vabbè si difende si difende che su manchi 3 rapidi artigli di seguito no incredibile sopravvissuto mi ha fatto pure tentennare va bene distruggiamo tutti dai la velocità massima eccolo qua e i maritiello ciao oh dai jasmine forza devi tornare alla palestra che ti devo sconfiggere quindi ah li devo portare che palle le medicine dov'è che si prendono le medicine non me lo ricordo medici per anfaros bisogna prendere la barca vero la pozione segreta esatto sì sì ce l'ho serve via spammatina di cura voilà la pozione oddio tutto glitchato come al solito la pozione segreta qua ancora no la nave qua non c'è percorso 40 aspetta dove è che ho il foglio delle catture il percorso 39 e il 40 ancora non ho catturato nulla non ha fatto nessun incontro cosa dice lui va bene eh devo andare giù a fiorisopoli qua si va al parcolotta eh è vero in una nella cittadina giù oltre mare eh devo fare tutto al mare la palla è incredibile va bene grumble fango facciamo facciamo iperzanna se va bene lo shot ah no è resistente allora tipo acciaio roccia proviamo con geloscheggia se è roccia gli faccio più danno no è resistente anche ghiaccio allora cambio su proviamo frinzi magari faccio un attacco di un attacco d'acqua non è d'acqua un attacco di fuoco forse lui è di tipo di tipo acciaio me lo sento acciaio basta individua però così di fila non fa storie vai capo super efficace super efficace quindi probabilmente racciaio un attacco di fila questo è leggendario facciamogli lava sbuffo di nuovo così anche la nostra stab ah però lui è resistente al fuoco scottato ti sta bene iperraggio non dovrebbe essere un problema è stato un problema per il 50% adesso salta un turno bel critico di foglia magica fa sempre bene livello 30 simpatiche le sue statistiche procuriamo subito che dite uso una anche su fiorellos allora tra l'altro ah ok pensavo di riuscire a fare l'incontro salvatico prima di questo allenatore ma no ci sono arrivato davanti finché hanno detto un dragonair gli salgono un po' le statistiche non me la sento proprio di farlo combattere mossa inutile sono qui in 1v1 ma vabbè contento te ipnosi bene velocizziamo un pochino notte sferze dai svegliati 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 ok sei svegliato critico ottimo bene bene incontro casuale ancora nulla mamma mia uuuh spiritomb se ricordo bene ho tolto dalla randomizzazione l'abilità magi difesa così da evitare pokémon spettro buio con magi difesa no da evitare si e anche ninja spettro buio con magi difesa no da evitare danno discreto ok ok no non così tanto un altro spettro che palle vabbè che lui era spettro anche dall'inizio però di tipi spettro ne abbiamo incontrati veramente veramente tanti stasera faccio la pizza già dell'impasto pronto da stendere ok 29 a che livello già si evolve al 30 latios vai rapidartigli un grande uno di noi critici a go go oggi è la giornata di critici per gemma forza di dark lord e un hitmonlee super efficace basta l'ha tankato però c'è un hitmonlee livello 18 debole a roccia e ha tankato un gemma forza di dark lord al 28 capiamo capiamo il capello sui occhiali capiamo distrutto 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 Vediamo di catturarlo questo Omanite così facciamo sia Kabutops che Kavastar. Problema di canto? Sì è andato al primo colpo. Ottimo. Proviamo con un bot in testa. Ah c'è carta vetro il Bastasu. Proviamo a fare un rimbalzo. Si sveglia, boato, fallisce. Strappadanza mi confonde vero? Allora a questo punto mando su Piccione che ha Demombaccio che ha una precisione più alta di addormentare. E a metà... A metà HP dai. Uh posso usare il flauto giallo. Posso usare il flauto giallo. Adesso lui rifarà. Aia è vero che c'ha boato quel bastardo. Porca miseria. È vero che fugisce dalla... Porca troia. Fugge dal combattimento. Non mi fa cambiare Pokémon. Mi fa cambiare Pokémon solo se è una sfida tra allenatori. ilchio e due palle. Rip Omanite. Sono dimenticati questa cosa. Quindi, con guato, con turbine fuggono dalla battaglia. Regirock Cos'è? Sta brillando Non dovrebbe essere un problema Ah è aereo attacco Beh non mi fa nulla Shellos Vabbè Shellos c'ha delle statistiche pessime Già quando diventa Gastrodon il più interessante Locomobolt Attenzione che Darklord è tipo volante Bene Sparalancia un po' così a sfregio Però non ha poco attacco È fisico Darklord Ce n'è Un pelino meno dell'attacco speciale Però comunque è alto Ah è vero devo curare Fiorello Oh Siamo andati nel percorso 41 Remoraid Premo catarreremo ride Va bene Canto Letteralmente mio padre Oh almeno non è Non è Spettro Però adesso per riaddormentarlo Gli metto su piccione Psico acqua Perché prende super efficace Perché il veleno è super efficace sul psico Ma pure avvelenato Bastardo Ok Ok Se mi fa Se si sveglia in fatto più Ago sono un po' nella merda Perché con la vita in giallo Poteva shottarmi facilmente Con un doppio ago Usiamo questa Minerval Giusto per togliercela dall'inventario 1 2 3 Preso E Remoraid È in saccoccia Fuoco Fuoco in chat Fuoco E dato che tipo fuoco Lo chiamo Ci dovrebbe stare Tutto maiuscolo Nooo Non ci sta Allora lo metto in inglese Push Push 500 Sarebbe spingere 500 In onore del fuoco Di volpesco Che palle vero Tutto gente che avvelena qua Allora lo metto in inglese Simpatica quella musichettina Combaskin Combaskin è di tipo Fuocolotta Come Il suo La sua evoluzione Nota che abbiamo catturato Blaziken Vai rimbalzo Così dovrebbe essere Subreficace Sì ah però Attenzione Lui è Dratini È del tipo erba Sciottolo 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 Metal testata Porca puttana Rip dratini No aveva troppo poca Difesa Non l'ha neanche crittato Non era neanche super efficace Peccato Non è neanche arrivato Ad essere un Dragonair Mantaic Cos'era Mantaic Spettro No Non era Spettro Vabbè 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 Oh Lapras Carino Lapras Fortune Canto Ah no Ok ok Non è quello che Non è ultimo canto Ok Ultimo canto è quell'altro Che fa Chi l'ha sentito Se non viene switchato via Dopo tre turni 891 Per un pelo Nel 30 E Rip Dratini di merda Persino spendere 2100 gettoni A quel gioco Di merda Al gira Minchia Ah mi sa che di qua Non si passa Ah Groove Vile E anche Qui Selvatico Porca Tantaggio Lo raggio Di merda Che palle Gelo Raggio C'è che qua giù Non si passa Ah no Quello è il mulinello Per entrare Nell'isoletta Ok No allora va bene Faccio il giro Da qua giù Ho ancora un sonno Entra sera Fare le 6 Della mattina Streammando Che non avevo sonno Ma sono scombinato Un botto Cos'è che ha fatto Ok Non mi interessa Però Andiamo avanti Andiamo avanti Oh Psicotaglio Certo che voglio Che lo impara Che lo impari Così che abbiamo Sparalanci Di merda Fortissimo Psicotaglio Burmi Usiamolo subito Ah È di tipo buio Ho capito Distrutto È vero Isola vorticosa Dove c'è Lugia Dove ci sarebbe Lugia Anche Cerrim È buio Facciamo che Usare Una Pozione Uso invece Un cova buova Ma fa schifo Ah Se lo toglie Lui Fa schifo Come uovo Fuori dalla battaglia Allora Che palla Gieble Non mi ricordo Assolutamente Che tipo è Che avevo trovato Guardchomp Un po' Il tempo fa Ma Azelf E Gardewar Bella squadra C'ha lei 30 Lenta Quel gelorraggio È un po' Fastidioso È un pochino Fastidioso Prima volta Faccio anche scorte Di repellenti Perché Perché sì Più che altro Andare per il mare È una rottura Uh pigiotto Bellino Ha resistito A gemmo Forza Luxi invece Un psicotaglio Non gli fa niente Porca miseria Mi ha bruciato Tutti i pipì Di surf Con rancore Oh che ha avuto Allora Tu sei tipo Spettro Beh Faccio psicotaglio Bel tankerino Nato Non mi ricordo Assolutamente Che cos'è Ci si sconfiggiamoli tutti Voltorb Distrutto Oh terraferma 31 Eccoci qua a Fiorisopoli Sto cosa vuole Vuole qualcosa Questo No Lo stesso Non mi interessa Perché tanto Non ha quei pokemon Lì Aspetto Far sposta Nei deceduti Nei deceduti Rip Chi mettiamo in squadra Il livello Il livello 20 Il king Ah Il strumento Afforto un pugno Turo gentile Ma anche lì c'è poca difesa No Non mi piace Non mi piace Però gli strumenti Tendiamo fuori un pugno Shiptile Che è già una fase 3 Andiamo un po' Erba veleno Rossini Tra l'altro Lui è Aspetta Mente locale Con petalodanza Petalodanza Che ti confonde Mente locale Impedisce al pokemon Di subire la confusione Stub Pure Perché è erba Splash Verrà cazziato subito Fa schifo D'attacco speciale Però Porca Però è 14 Dai Un pochino Dovrebbe salire Fa schifo D'attacco speciale Questo devo provare Lo voglio provare Sì Sì Diamogli subito Il condivide esperienza Che Non ho nella borsa Ma ce l'ha su Dark Lord Milastra mente Giusto per potenziare Psicotaglio Perfetto Allora ho forto un pugno Aumento i critici Di chance Va bene Facciamo riposare tutti Ecco la farmacia Quindi dovrebbe Darmelo lui Esatto La passione segreta Perfetto Ah Possiamo anche comprare Della roba Compriamo Dieci Iperpossioni Compriamo dieci Anche Cure totali Aspetta 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 Cosa? Cosa è che vuole? Ah lui mi dà Un pokemon Che pokemon dà Che non mi ricordo No Ho sbagliato Che pokemon dà Sì sì Schippiamo tutto Che pokemon è? Caratroc Tra l'altro si chiama Ah Shackle Ma dove? Che statistiche ha Shackle Veleno Drago Livello 20 Acquaiuto Riciclo Tra l'altro È una sua mossa Riciclo Morso Lacerazione Drago Furia Però Tutte Mosse Mosse Fisiche C'ha pochissimo Attacco Porca Misericcia A livello 20 Con 83 Aumenta la difesa Diminesce la velocità Non so Non so Non so bene quindi abbiamo preso anche sciaccole sciaccole belli questi sprite però adesso di sciacco il nome interessa ci riprendiamo in shaptail e vediamo di farlo rivellare un pochino tra l'altro si può combattere questa palestra qua subito mi pare vero lo so c'è l'ughia la sotto che non dovrebbe essere randomizzato se c'è non mi ricordo il gol sul civil si possono catturare tutti e due è lei che mi dà volo forse sconfiggiamo intanto questi allenatori qua onyx 27 onyx con giorno di sole vabbè tanto è lento era lento rimane vuoi addormentare sì o no o finalmente cacchio dai dai su ah è di tipo buio sai che ti dico allora mando su nemesi bel mart il pugno alla faccia allora questo l'hai sentito è l'ha sentito è uh gulpin bello scarmory ma intanto va nanna anche lui posto distrutti sabbio tomba beh sicuramente gli tolgo splash splash sabbio tomba non è questa gran mossa buono di qua non si può passare per adesso quindi anche se anche io no lui è ancora un po' troppo debole beh fiorello vele in polvere sabbio tomba fa schifo infatti la cambio subito uh pikachu no attenzione no sempre fiorello vado in su cosa ha fatto non ho visto però aveva fatto una mossa da ko rischiosissime quelle vero devo chiudere la l'acqua 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 della cascata mi scorre su che scorre sulla testa sono fortissimo cosa non c'entra niente con i pokemon far sempre nell'umido ti fa bene caputo anche lui so già che è tipo spettro e questa volta ha più vischio che ha avuto hai capito allora tipo spettro adesso dark lord se lui fa giorno paga sono lui che raccolgo le monete comunque mi sa di no eh io che voglia di pizza che c'ho stasera e tra un po' la farò siiii vado a dare mozzarella virsten peperoni vuole vedere ahhh 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 Skiplum, parca miseria l'ho anche catturato Skiplum, ma di che cavolo di elemento era? Di che tipi era? Aia punizione, cattivo Distrutto Facilissimo Facilissimo Bene bene MT1 non sarà sicuramente centripugno Morso Vabbè simpatica morso Lol Sì volo, ottimo Perfetto, allora salviamo Salviamo, insegniamo volo a qualche uno dei nostri Io la do Dark Lord Perché è tipo volante E quindi stab Tolgo desiderio che non l'ho mai usato E dato che è lento, almeno così si evita un attacco Frigobar, ciao Buonasera 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 Fammi provare una cosa Fammi provare una Una cosa Ecco Frigobar, ora sai anche VIP del canale Primo VIP del canale tra l'altro Così Ah, devo curare, aspetta Devo curare la scvadua Spammino di A in game Voilà Easy, easy Ho provato a giocare A Code Warzone Ma Sarà che da solo E non in team È un po' una rottura Però Cioè Mi ha già rotto le palle A livello incredibile Più che altro devo riprendere Skatefront Arco Allora La zona safara Uh Perché c'è un suicone là? Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Come mai? Perché c'è suicone? Uh Ma quello Non era suicone Zampettava Boing 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 Corre così Ah Mi vuoi sfidare? Poverino Ma come va conciato Eugenius Contento lui Allora Lui che è ancora Aspetta Fammi vedere Fammi rinfrescare la memoria Sulle statistiche Sue Poca difesa Poca difesa speciale Proviamo 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 Di petalodanza Stab Non potentissima Geo Porca Trove Gelo pugno Che culo Non è morto Nooo Non lo posso sostituire Per petalodanza Che Rip dratini Rip Sheptile Ottimo No I pokemon Con poca difesa Sono ancora peggio Di quelli Con poca velocità Nella Northlock Meglio andare Sui tanker Anche se Sono lenti Infatti Che dratini C'aveva Moltres Moncas Anche dratini Aveva Porca Troia Ah perché È tipo Ghiaccio Fiorello Allora Marta Al pugno Beh Nemesi Che spettro Hai mancato Ti sta bene Anche dratini Aveva lo schifo Più schifo In difesa Quindi Abbagliante Schifo Più schifo Gli ha fatto Niente Gli ha fatto Faccio Marta Il pugno Io Allora A questo Punto Attenzione Onda Calda Non è Da sottovalutare Porca Troia Calmi Calmi Mi fa un Critico Adios Per Abbiamo Il counter Delle morti In effetti Hai ragione Per ora Siamo a 4 mi sembra 4 amiche con l'onda calda però mi ha cavato un bel po prima che miseria no no fammi 8 massimo 8 massimo 8 massimo ma fatto 3 che miseria che frenzia forte parca troia bohra puttana viglia sto butterfree è un cannone muori per sabbia terrempesta ecco terrempesta di merda no eugenius era forte era forte dai strubile andrea ogni volta che dice che pronuncia sui cun lo urla perché ha scritto tutto in caps lock ma no che dai prendi non sono neanche riuscito ad arrivare a prova a provare a fargli fare un petto all'udanza completo per vedere se si confondeva o no dato che aveva mente locale come abilità magari finiranno se mi ricordo lo proverò farò il test sai di che il livello 26 bastone morto la sua prima battaglia mainstream che lo schifo di difesa e lui che vabbè peccato allora tiriamone fuori un altro l'atomico il king il king è acciaio ah no è vero che ci aveva macro forza però un attacco di merda acqua spettro no ho già degli spettro ho già degli acqua veleno lotta antisuono l'altro schifo di merda l'altro schifo di merda l'altro schifo di merda livello 16 livello 16 fa un po' che gare pincir fuoco veleno mincir fuoco veleno morso colpo capocciata denti stretti aumenta attacco in caso di problemi di stato questo è da tenere d'occhio rigged se no c'avrei anche togetik che abilità è solid roccia che non mi ricordo ah riduce la potenza delle mosse super efficaci e lui di che tipo è? ghiaccio non mi ispira talpoide invece ah non l'ho mai allenato talpoide avvelena il contatto delusione invece non fa proprio schifo è buonino è al 21 con 30-40 di def di difesa buon attacco speciale e poi c'ha extra senso attacco fa un po' schifo gli altri tre sono tutte mosse fisiche però ha un comparto di mosse di molto vario è tutta a 100 di precisione quindi mi sa che mi sa che dobbiamo allenare lui l'atomico invece livello 20 difesa è bassa difesa speciale molto buona fossa schermo luce bracere oppure vediamo come va su shackle difesa dovrebbe salire bene velocità in questo caso non fa anche schifo ha molti punti vita per essere un livello 20 l'attacco è un po' basso quindi dovrebbe andare su mosse speciali che adesso lui non ha sono indeciso no prendo togatic prendo delusione delusione giusto perché ero rimasto deluso quando si è aperto l'uovo che mi avevano dato in gioco ed era il togepi normale cioè come specie di pokemon randomizzato ma come statistiche come tipo come mosse però non di cosa vuole sta gente non rompetemi le balle posso dare qualcosa a qualcuno ma questo lo schippiamo voilà ok allora allora quindi qua ci hanno messo la zona safari ah ancora chiuso vero ok tra l'altro nel regolo messo nella zona safari possiamo catturare tre pokemon non male allora abbiamo volo quindi vediamo di tornare qua che non mi ricordo era qui che ci trovava di alga ah i delga e i garchomp voglio fare allenare un po' questo togatic a parte che devo andare di extrasenso sembra che era qui era un posto abbastanza buonino beh per 436 alluminio già che di che elemento era ok la confusione spaventa sempre paralisi curiamo farlo arrivare tipo livello 25 ah prima un garchomp l'avevo shottato col critico ecco di alga minchia non gli fa nulla attenzione 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 mettiamo su lui bravo semibomba semibomba ottimo ah non gli da neanche tanto paga quasi di più garchomp è vero che c'è anche nido queen anche nido queen paga un bel po' barriera no voglio che tenga le vecchie dai contatore rischio però almeno attaccavo prima io uh sono le sette e mezza attenzione ok lo faccio arrivare al 25 e poi direi che oggi basta due orette dai va bene se non riesco a dormire forse stanotte torno a fare un po' di giust chat in così casuale ok livello 25 si salva buon buon vi saluto vado prepararmi la pizza forse ci vedremo stanotte così a caso ciao a tutti ciao 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 ciao